E' stata ricevuta a Palazzo Lascaris dai presidenti del Consiglio, Mauro Laos, e della consulta elette Stefania Bazzella, la scrittrice magrebina Rita Alkayat, una delle più note intellettuali del Marocco, medico-psichiatra, psicanalista e antropologa. Candidata al Nobel per la pace nel 2008, ha tenuto in aula una conferenza pubblica sulla condizione della donna nei paesi arabi. I studenti che attraversano il mondo, di qualunque tipo siano, sono un'esperienza fantastica per i ragazzi perché serve loro a evolversi e a sviluppare i loro orizzonti. A mio avviso bisognerebbe reinserire nelle scuole la disciplina, la morale e l'educazione civica.